Trim Informatica sviluppa applicazioni software a supporto dell'operatività di fabbrica. Adaptive MES è la soluzione di Trim per la gestione dell'avanzamento della produzione. Un secondo ambito di specializzazione è la piattaforma Visual Quality, a supporto di tutte le fasi di controllo qualità ed in particolare la raccolta di difettosità. Trim Informatica ha implementato la World Class Manufacturing Suite, che supporta la gestione centralizzata di progetti finalizzati all'ottenimento di zero infortuni, zero rifiuti, zero guasti e zero giacenze.